Non capisco perché non è valido per me avere tutte le possibilità che una persona hetero ha. Una figura paterna, una figura materna è una tonteria. Tiene due persone che ti vogliono, che ti occupano e che si preoccupano per te. E' chiaro, il Stato verbieto di essere lesbi, schuli, bi e trans, oltre se. E' una enorme discriminazione. Noi non sono speciali, non sono diversi. È solo un senso, che puoi protegere la sua famiglia, e che puoi prendere la sua famiglia e la vostra bambina. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.